Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di maltempo perché come ampiamente previsto da questa notte ondata di gelo sul Abruzzo così come sul centro nord Italia. Raffiche di vento e di neve anche a basse quote già dalle prime ore del mattino. Un maltempo diffuso dal centro adriatico verso il sud anche con temporali, rovesci intensi e nevicate a quote sempre più basse fino a rasentare le coste. Venti settentrionali di bora e grecale, temperature ovviamente in diminuzione, mari molto mossi. Un'intensa perturbazione questa supportata da massa gelida di origine artica che sta investendo in questione il centro Italia riportando condizioni invernali anche sulla nostra regione. Nevica da questa notte infatti su Marche ed Abruzzo fino a 400 metri di quota. Qualche fiocco di neve è apparso tra la pioggia anche in prossimità delle coste nella zona di Pescara. Fitta nevicata invece è interessato in mattinata la zona dell'Aquila in biancando il capoluogo abruzzese. Maltempo previsto anche nella giornata di domani che sarà contraddistinta da condizioni di maltempo diffuso sulle regioni adriatiche con piogge battenti, locali temporali e neve forte nelle zone collinari. Nubi irregolari altrove, un'instabilità questa che si protarrerà fino alla giornata di lunedì mentre da martedì dovrebbe ricominciare a splendere il sole sulla nostra regione. Cambiamo argomento adesso tra le tante manifestazioni in tutto il mondo contro la guerra, anche quella organizzata questa mattina a Chieti dai sindacati. Le ripercussioni del conflitto potrebbero creare un enorme danno all'economia abruzzese. Giuseppe Dintino. Nessuna tregua finora tra Ucraina e Russia, mentre il prezzo più alto è quello pagato dai civili. Sarebbero almeno 198, secondo il governo Zelensky, le vittime tra i cittadini ucraini. In tutto il mondo si moltiplicano le manifestazioni di piazza contro la guerra. Questa mattina a Chieti, nonostante la neve, si sono dati appuntamento davanti alla prefettura a CGL, Cisle, Will, Legambiente, Libera, Ampi e Slow Food. Presenti anche esponenti dell'amministrazione comunale per dire che la guerra è una schifezza. Non mettiamo colori ideologici perché la guerra è una schifezza in qualunque latitudine e per qualunque motivo. È grande la preoccupazione per le ripercussioni economiche che il conflitto armato, seppur lontano, potrebbe avere sull'Abruzzo. Dalla questione del gas russo fino a quella di materie quali grano, mais e olio di girasole, di cui l'Ucraina è uno dei maggiori produttori al mondo. A rischio il turismo dalla Russia. Nel 2019 i cittadini russi che hanno visitato l'Abruzzo sono stati 4.214 per oltre 17.500 notti trascorse nelle strutture ricettive. In primo piano anche l'export, il commercio dall'Abruzzo verso la Russia vale circa 86 milioni di euro, di cui oltre 51 milioni riguardano la sola provincia di Chieti. Questa guerra avrà ripercussioni su tutta l'Europa, ma in particolar modo sull'Italia e su questo pezzo di territorio. Perché come veniva appena detto c'è un export verso questi paesi che è molto forte, ma c'è anche la questione crisi energetica perché siamo già dentro una crisi, che è quella appunto del gas che non arriva più, della produzione che è a rischio. Se ci aggiungiamo l'inflazione e ci mettiamo anche il fatto che continua questo ulteriore rincaro anche dei prezzi, le famiglie e le imprese di questo territorio andranno fortemente in difficoltà. Ciò significa un ulteriore arretramento, ciò significa ulteriore perdita, rischi di perdita occupazionale, ciò significa imboverimento anche del tessuto economico e sociale della provincia di Chieti, ma dell'intero Abruzzo. Restiamo a parlare di conflitto in Ucraina, serve una risposta forte dall'Europa, la deputata Stefania Pezzopane parla dell'invasione russa e stigmatizza il comportamento delle destre sovraniste che hanno strezzato l'occhio al Presidente Vladimir Putin. Gli Stati europei si sono attivati anche con tanta diplomazia e tanta capacità di mediazione, ma il disegno egemonico di Putin sugli ex Stati dell'Unione Sovietica è un disegno chiaro e spiace che in Italia in molti lo abbiano coccolato, lo abbiano lisciato e si siano sentiti di doverlo affiancare e quelli che lo hanno fatto, la destra italiana, si deve ora assumere una grande responsabilità. La diplomazia deve continuare a fare il proprio mestiere, ma ci vuole una risposta forte dell'Europa, delle Nazioni Unite e voteremo delle risoluzioni in cui ci saranno anche le azioni concrete che l'Italia dovrà fare. Innanzitutto è sicuramente l'accoglienza, ma credo che all'accoglienza si debbano affiancare iniziative di altro carattere, non solo umanitario. L'idea di aggiungere alla crisi economica post-pandemia una guerra è un'idea folle, l'Italia deve essere unita, tutta unita nel dire no a Putin. Mi auguro che anche quelle destre sovraniste che lo hanno corteggiato e coccolato la piantino di fare quello che hanno fatto e siano in linea con l'Italia, con l'Europa e con i paesi dello storico patto atlantico. Nel momento in cui si bombardano le scuole è evidente che si diventa nemico della pace e quindi nemico dell'Europa di pace e mi auguro che le diplomazie riprendano il sopravvento. E la guerra tra Russia e Ucraina sta toccando anche il mondo imprenditoriale della nostra regione. Se da un lato c'è incertezza per quelli che saranno i risvolti economici, dall'altro c'è il lato ovviamente umano. Infatti da giorni è sempre più difficoltoso scambiarsi mail o messaggi telefonici. Le ultime che arrivano dall'Ucraina tengono in apprensione non poco chi da anni ha scommesso sulla nazione con le proprie aziende. Umberto Marini, imprenditore del settore della farmaceutica ai nostri microfoni, racconta l'angoscia di queste ultime ore dove non ha più notizie dei suoi collaboratori. In Ucraina sono presente con una organizzazione, una filiale e fino a ieri sera ho ricevuto comunque messaggi via WhatsApp o comunque via mail. Da ieri non ho più notizie. In Billico c'è la democrazia ucraina, per questo tornare a fare imprenditoria in quei posti non sarà più cosa semplice. Non è la parte finanziaria e economica che viene a essere distrutta, è tutta l'organizzazione. organizzazione di un posto come l'Ucraina dove trovare persone affidabili, corrette è sempre molto difficile. Invece adesso con la guerra di parto verrà polverizzato tutto l'investimento umano. In questo momento quanto potrebbero essere fondamentali degli aiuti per queste persone e in che modo? Ora io non sono un politico, faccio imprese, dico sempre che quando si fa qualcosa bisogna vedere i pro e i contro. Gli investimenti fatti dicono che quello è un popolo che comunque ha una grande forza. Aiutarli significa in questo momento forse mandargli le armi, ma non è il mio compito. Dal punto di vista umano l'unica cosa è stargli vicino, ma bisognerebbe avere le comunicazioni. In questo momento le comunicazioni stanno sempre di più diventando impossibili. Io auguro all'Ucraina un grande divenire, certamente non sotto la Russia. E come di consueto facciamo il punto anche sull'emergenza Covid nella nostra regione. Sono 1135 i nuovi casi accertati nelle ultime ore nella nostra regione, 658 individuati attraverso test antigenico. Il tasso di positività è pari all'8,81%. Si registrano anche tre decessi recenti, così il bilancio delle vittime arriva a quota 2950. In rapida discesa, questa è la buona notizia, i ricoveri che passano dai 429 di ieri ai 404 di oggi. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra due mesi e 93 anni. 391 pazienti sono ricoverati in area medica con un meno 24 unità rispetto a ieri. 13 sono ricoverati in terapia intensiva, meno uno rispetto a ieri, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Balzo dei guariti che nelle ultime 24 ore sono quasi 10.000, 9.803. Per quanto riguarda le variazioni provincia per provincia, rispetto a ieri, più 262 casi in provincia dell'Aquila, più 297 in provincia di Chieti, più 246 in provincia di Pescara, più 297 in provincia di Teramo, 16 per persone che risiedono fuori regione, 16 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza e alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le terapie intensive, al 28% per le aree mediche. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti scende invece a 723. Adesso parliamo del caro bolletto. I commercianti sono arrivati al limite tra le restrizioni dovute alla pandemia e l'aumento esponenziale delle bollette e gli esercenti non riescono più a far fronte ai costi, mentre le persone che consumano sono ancora poche. Stanno arrivando a un punto che siamo arrivati tutti sceriffi dentro le strutture pubbliche, non ci stanno gli interlocutori e non mi rivolgo solo alla politica, ma mi rivolgo pure all'interno delle strutture, non fate di sceriffi, state facendo di sceriffi con le imprese, questo è il vero dramma. Costi di gestione alle stelle, mentre pochi sono quelli che consumano. I commercianti sono furiosi. Dopo due anni nefasti per gli esercizi, adesso la stangata sulle bollette in questo piccolo bar del centro di Pescara è arrivata una bolletta dell'elettricità di oltre 17.000 euro per circa 7 mesi. Ci illumineremo con le candele, la provocazione del titolare. Questa è l'alternativa. O le istituzioni ci vengono incontro con qualche provvedimento che ci consenta di andare avanti, di fare la nostra attività, perché i locali pubblici sono gli occhi della città. Il controllo del Green Pass sia perlomeno a campione, chiede Confcommercio. Intervengano da Roma oppure chiuderemo. Il caro bollette non è soltanto uno slogan, ma in realtà questo bar di 60 metri quadri è arrivata una bolletta di 17.000 euro, con IVA al 22%, di cui noi diciamo da anni che l'IVA deve essere portata al 10% con tutte le accise e tutto il resto. Lo Green Pass è diventato uno stress per chi entra, quindi non può essere che il titolare debba mettere i bodyguard per controllare il Green Pass e poi stiamo riprendendo, ci stiamo riprendendo da una pandemia che è durata due anni di chiusura e forzate. Le uniche attività che tengono ancora in piedi un po' di socialità sono i bar, i ristoranti e poi tutto quello che è l'intrattenimento, chiaramente stiamo passando un brutto, non brutto periodo, stiamo arrivando alla chiusura totale. Questo è l'obiettivo e questo è l'obiettivo, secondo me qualche obiettivo politico ci sta. Ad ascoltare il grido di rabbia dei commercianti, anche l'assessore cremonese, non possiamo sospendere ancora le tasse comunali, ha detto l'esponente dell'amministrazione. Le imposte comunali, come sapete, non sono sospendibili. Tra l'altro il Comune di Pescara è un comune che è bersa in predissesso, quindi ha un piano finanziario che deve rispettare. La questione delle tasse è una questione che da sempre deve essere riversata sul governo centrale. E se le tasse non possono essere sospese, perlomeno consentiteci di allargare i Deor e gli spazi esterni, la risposta di Confcommercio. Ma ti prenderai una bella tecnica, io ti do una mano, ma se ti immagini questi regolamenti ti puoi scordare la mano. Viabilità adesso, Anas ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il raddoppio della ex superstrada dell'Iri in regione, presenti i vertici della regione Abruzzo e i sindaci dei comuni interessati. L'opera, ha detto Marsiglio, è necessaria per lo sviluppo della Marsica e della Valeroeto. È un'opera molto importante, innanzitutto per risolvere una questione di pericolo, è una strada che ha assimilato troppe vittime, continua a farlo perché c'è troppo traffico per una strada che non può sostenerla nelle attuali condizioni, nonostante il grande sforzo di Anas di tenerla nelle migliori condizioni possibili. Il progetto di fattibilità tecnico-economica realizzato dall'Anas per il raddoppio della strada statale 690 che collega Avezzano a Sora, la ex superstrada dell'Iri, è stato al centro della conferenza preliminare dei servizi in regione alla presenza del presidente della giunta Marsiglio e del sottosegretario con delega alle infrastrutture Umberto De Annuntis. L'intervento, previsto per un importo complessivo di 960 milioni di euro, interesserà i comuni di Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella, Roveto, Civita, Dantino, San Vincenzo in Valle Roveto e Balsorano. Nello specifico si tratta dei lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale della statale 690 Avezzano-Sora, nel tratto compreso tra il chilometro 0 ed il chilometro 39 più 350 ricadente nel territorio della regione Abruzzo. La superstrada in questione ha origine alle pendici del monte Salviano in territorio avezzanese per poi entrare nella valle del fiume Liri in cui procede collegando i comuni abruzzesi fino al confine con la regione Lazio. Abbiamo fatto le richieste formali al ministero perché la inserisca nel contratto di programma quindi già ci sono appunto i primi finanziamenti sono già pronti e non appena l'opera sarà definita e potrà andare in gara siamo certi che nel corso degli anni che servono poi a realizzare un'opera così importante si troveranno anche le risorse per poterla completare. Il Consorzio Tutela Vini Colline Terramane è organizzato a Teramo una tre giorni di anteprima per la stampa internazionale. Dal 2 al 7 marzo gli specialisti del settore assaggeranno più di 25 etichette tra le cantine socie del Consorzio e scopriranno delizie enogastronomiche del territorio. Il Consorzio di Tutela Vini Colline Terramane organizza a Teramo dal 2 al 7 marzo la seconda edizione dell'anteprima della denominazione dedicata alla stampa di settore nazionale e internazionale. Saranno oltre 30 i giornalisti provenienti dall'Italia e dall'estero che assaggeranno in anteprima le etichette di 25 tra le cantine socie del Consorzio di Colline Terramane Montepulciano d'Abruzzo d'OGC. L'iniziativa ha scelto un titolo accattivante, The Cool on the Hills. È il momento in cui la stampa, gli appassionati, gli operatori si interfacciano con i produttori per scoprire quali sono le annate nuove, più recenti e questa è anche l'occasione che abbiamo organizzato noi. Le caratteristiche del vostro vino quali sono? Si tratta per chi non lo sa di un montepulciano d'Abruzzo, infatti il montepulciano d'Abruzzo è ancora nel nome della denominazione che si chiama Colline Terramane Montepulciano d'Abruzzo d'OGC. Quindi è una declinazione del vino che gli abruzzesi conoscono molto bene, che ha un grande carattere strutturale, una grande capacità di invecchiare negli anni e crescere nel tempo. Il Colline Terramane in virtù di una serie di combinazioni, l'uomo con il territorio, il territorio con l'uva, la storia con tutti e tre gli altri elementi e qui acquisisce delle caratteristiche che sono una spiccata freschezza, in generale una grande eleganza. I produttori di vino sono rappresentanti e ambasciatori dei loro territori da sempre, però non possono fare tutto e quindi è importante che l'Abruzzo si doti secondo noi di una struttura stabile di promozione del territorio che duri negli anni indipendentemente dalle amministrazioni e che possa portare avanti nel tempo un programma di promozione del territorio che rappresenti l'Abruzzo per quello che è, quindi che lo conosca e lo racconti per quello che è. Noi siamo uno dei tasselli di questo territorio e i nostri vini e i nostri territori risentono della percezione che all'esterno si ha del nostro territorio. I giornalisti che parteciperanno all'anteprima dei vini di Colline Terramane saranno inoltre coinvolti in tre esperienze di conoscenza gastronomica del territorio, tra tradizione e innovazione, tra cui un pranzo a cura degli allievi dell'Istituto Superiore di Popparozzi che prepareranno una serie di assaggi tipici ispirati alla cucina terramana. A cento anni dalla traslazione del milite ignoto che rappresenta i caduti in guerra, l'Istituto Comprensivo 3 di Chieti ha organizzato un calendario che coniuga storia e impegno civile. Selenia Secondi. Per contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica dei giovani, come ogni anno l'Associazione Nazionale Figli Caduti e Dispersi in Guerra ricorda con una testimonianza i soldati che non sono più tornati nelle loro case dopo le guerre. Quest'anno il Comitato di Chieti dell'Associazione, nel centesimo anniversario dell'Istituzione del Milite Ignoto, ha promosso la realizzazione di un calendario la cui realizzazione è stata opera degli studenti della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Antonelli di Chieti. 70 ragazzi che nonostante le difficoltà della pandemia si sono impegnati a ricostruire le vicende narrate nel calendario che racconta da come scoppiò la prima guerra mondiale fino alla scelta del corpo del Milite Ignoto, un volto senza nome che rappresenta tutti i caduti e dispersi in guerra. È un'azione sia di valorizzazione del percorso storico ma anche di una presa di coscienza anche da parte dei ragazzi di quanto possa servire l'esempio del passato per poi costruire un futuro possibilmente migliori considerando anche la situazione contingente. Mi faccio fare i complimenti sinceri a chi ha avuto questa idea, quindi all'Associazione e soprattutto alla scuola, alle scuole, alle classi che hanno aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo perché vede abbinare disegni, poesie, tutte scritte con il cuore dai ragazzi non è semplice perché vuol dire che sono state toccate da parte delle professoresse a cui rivolgo ulteriori complimenti, sono state toccate delle corde particolari nei ragazzi, quindi hanno suscitato l'interesse, è vero, ma anche qualcosa di più dell'interesse, quindi si è visto, onore e merito davvero a questa bella iniziativa. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partiamo dalla Serie C con il Pescara che è atteso dal posticipo di dopodomani sera contro il Modena, sempre in dubbio Diambo mentre Veroli e Pontisso vanno verso il recupero. Pronto a tornare dal primo minuto il bomber Franco Ferrari che nell'ultima partita era squalificato, in queste ore però tiene banco il caso Plus Valenze con la società Biancazzurra che sta vagliando la difesa ai rilievi mossi dalla Procura Federale. Andrea Costantini. Il Pescara studia la linea per dimostrare la sua estranità alle contestazioni della Procura Federale secondo cui la società Biancazzurra, come anche Parma e Pisa, attraverso Plus Valenze gonfiate e quindi attribuendo a calciatori valori superiori a quelli di mercato, sempre che esistano dei parametri oggettivi per una loro definizione, hanno dato al proprio bilancio una rappresentazione tale da ottenere l'iscrizione a dei campionati cui altrimenti non sarebbero stati ammessi in base alle disposizioni vigenti. Questo dice il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva tirato in ballo dalla Procura Federale mentre per le altre 8 società coinvolte da questo primo filone di inchiesta sulle Plus Valenze Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Provercelli e le non più affiliate Chievo e Novara c'è solo il punto 1 che prevede al massimo una ammenda con diffida. Il Pescara ha tempo altri 10 giorni per depositare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati le strade per convincere la Procura ad archiviare il procedimento. In caso contrario o in caso le spiegazioni di questa fase non fossero sufficienti la Procura farà scattare il deferimento davanti al Tribunale federale nazionale. Si aprirebbe il procedimento sportivo vero e proprio che porrebbe due problematiche. Da una parte respingere le accuse che se accolte dagli organi di giustizia sportiva porterebbero a sanzioni che vanno da una penalizzazione in classifica a quelle più gravi di retrocessione all'ultimo posto o esclusione del campionato. L'onere della prova nella giustizia sportiva è a carico di chi si difende, dunque del club. E poi i tempi. Un eventuale deferimento comunicato nella prima decade di marzo porterebbe ad una udienza di primo grado celebrata nella metà di aprile. Il campionato si chiude a fine mese e il rischio è quello di definire una griglia play-off con un verdetto non definitivo. Eventuale secondo grado da discutere a maggio con i play-off in pieno svolgimento. Spetterà a Leghe e Federcalcio gestire una situazione delicata. Pisa e Parma giocano in B e i Toscani sono in lotta per la seria diretta. Il caso più recente di condanna per plusvalenze fittizie risale all'estate 2018 quando Cesena e Chievo furono deferite per operazioni incrociate fatte sovrastimando i cartellini dei giocatori scambiati. Alla fine di una vicenda intricata il Cesena ebbe 15 punti di penalizzazione in primo grado ma in quella stessa estate sparì e il procedimento non andò oltre. Il Tribunale federale riconobbe delle differenze al Chievo che venne punito meno severamente con tre punti di penalizzazione. La procura ne chiese 15, meno tre che fu confermato in secondo grado dalla Corte federale d'appello e in terzo grado dal Collegio di Garanzia del Coni. Il presidente del Chievo Campedelli venne inibito per tre mesi. Impegno interno invece domani per il Teramo una vera e propria finale salvezza contro il grosseto degli ex Maurizzi Capaldi e in campo ci sarà anche Cretella. Maremmani senza Ciolli squalificato, coppia d'attacco con Nocciolini ed Arras. Nel Teramo fuori Bois per infortunio, probabile l'impiego di Lombardo a destra con Aziosmanovic a sinistra nel 3-4-3. Davanti potrebbe essere confermato il trio visto dall'inizio contro il Modena mercoledì. Gara ovviamente determinante come immagina anche Federico Guidi nella consueta conferenza stampa pre-gare. Domani è una partita di grandissima importanza ma ogni partita, visto che quelle che mancano alla fine del campionato diminuiscono sempre di più e ogni singola partita assume un valore sempre più grande. domani è un avversario ostico, difficile, in classifica è vero che in questo momento sono in ultima posizione ma stanno facendo delle ottime prestazioni vendono cara la pelle in qualsiasi partita e in qualcuna delle ultime uscite hanno fatto zero punti ma non meritavano di uscire sconfitti. È una partita che dobbiamo giocare bene, consapevoli che come vi ho detto in precedenza sarà la quinta partita in due settimane quindi secondo me sarà importante giocare molto bene tecnicamente e soprattutto dobbiamo avere la capacità di mantenere le distanze vicine tra compagni e reparti perché dopo tanto dispendio energetico è chiaro che se tendi ad allungarti, a perdere le distanze poi diventa una partita che forse i nostri avversari sono più abili a fare rispetto a noi ma sicuramente qualche cambiamento ci sarà sarà la quinta partita in due settimane ed è fisiologico che ci possano essere dei cambiamenti sempre in relazione al recupero dei ragazzi perché se ci sono calciatori che pur giocando tanto ma sono riusciti a recuperare e sono in condizione ottimale andranno sicuramente in campo però qualche cambiamento sicuramente ci sarà ma secondo me all'interno della partita ci sono tante mini partite da giocare io penso che il Grosseto cercherà di inibirci la nostra prima costruzione venendo anche a prenderci uomo su uomo questo me lo posso aspettare mentre in manovra riesce a chiudere spazi anche all'interno della propria metà campo e cercare di ingolfarci un po' gli spazi noi dobbiamo essere molto bravi nella prima costruzione perché se riusciamo a eludere la prima pressione e il loro pressing è chiaro che riusciremo ad attaccarli e a mettere un po' i nostri attaccanti nelle loro abilità migliori quindi esaltando i loro pregi piuttosto che magari i nostri difetti e quando invece riusciremo in manovra a metterli o dover attaccare spazi stretti è chiaro che dobbiamo avere grande pazienza nel trovare il varco giusto e soprattutto dobbiamo stare molto attenti all'eventuale ripartenza e quindi riaggressione e marcature preventive saranno un tema dominante nella partita di domani e in apertura di questo TG abbiamo parlato di maltempo che ovviamente crea disagi anche al campionato di Serie D perché già rinviata a Montegiorgio Trastevere nella ventiduesima giornata in programma domani nel Girone F salta anche la partita del Vincenzo Savini di Notaresco dove il Notaresco avrebbe ricevuto la visita del Porto d'Ascoli ovviamente condizioni di maltempo che impediscono la disputa della partita il recupero potrebbe essere mercoledì 2 marzo dunque tra quattro giorni in un turno infrasettimanale poi ovviamente manca l'ufficialità della data però si va verso il recupero di mercoledì 2 marzo e sarà una quinta giornata di ritorno in Serie D in cui mancano derby abruzzesi l'incontro più importante però si gioca a Pineto dove i padroni di casa ospiteranno la capolista recanatese il Chieti cerca la sesta vittoria consecutiva quinta di ritorno di Serie D con un match di cartello quello del Mariani Pavone dove il Pineto ospita la recanatese la cura a Maulo sta funzionando e se il primo dei tre successi consecutivi della nuova gestione era stato deludente con l'alto Casertano le vittorie in trasferta con Castelnuovo e soprattutto con un trastevere imbattuto tra le muramiche hanno fornito indizi di una inversione di tendenza tanto che un successo, comunque molto difficile domani contro la prima della classe potrebbe riaprire scenari che sembravano archiviati soprattutto se il Pineto farà, come è capitato in passato un gran finale di stagione sarà anche la gara degli ex il Pineto si ritroverà contro quel Minnozzi che è andato via poche settimane fa superbo lo scorso anno discontinuo nella prima parte di stagione percorso opposto ha fatto Minella a Maulo deciderà se far partire titolare o no l'argentino tra gli ex anche Pezzotti Leopardieni che dopo una fase di forte appannamento hanno ritrovato il successo con l'alto Casertano ma devono dimostrare che la fase peggiore è alle spalle cosa che ha fatto il Chieti che viaggia col vento in poppa dall'alto delle sue cinque vittorie consecutive una striscia entusiasmante che ha portato i Neroverdi in una zona playoff che ora vogliono mantenere per farlo bisognerà battere il Vasto Girardi squadra temibilissima tra le mura amiche più alla portata lontana dal Ditella torna in panchina dopo la squalifica Lucarelli che si affida ai gol di Fabrizi già 11 nel campionato e alla solidità della difesa due gol presi in cinque gare va a caccia di riscatto la vastese reduce dal crollo finale all'Aragona contro il Matese che ha fermato la serie di nove risultati utili per i consecutivi per la squadra di D'Adderio trasferta sul campo di una delle squadre più in crisi del campionato il Castelfidardo che non vince da nove partite sei sconfitte e tre pareggi e per il quale non ha sortito a effetti il cambio in panchina con Mangiapane al posto di Manoni squadra K.O. contro Fano e Castelnuovo per la vastese rosa quasi al completo ma pericolo cartellino giallo per tre giocatori in diffida Allegra, Diallo e Agnello trasferta da sfruttare per il Castelnuovo che dopo aver ritrovato la vittoria ora farà visita alla Cenerentola Aurora Alto Casertano il tecnico Guido Di Fabio sorride per il recupero di Lorenzo Emili Out, Serafino e Camilleri speranze per Ludovici ma ci sono le condizioni per espugnare il campo di Pietramelara e prepararsi al delicato recupero di Fano del 2 marzo un vero e proprio scontro diretto match proibitivo per il Lenereto che farà visita alla rilanciata San Benedettese appellandosi all'esperienza del proprio difensore Davide Salvatori grande ex della partita del grosso recupera Scatozza e Pedalino in dubbio Cipriani Vibratiani più che dignitosi nell'ultimo periodo ma continua a mancare la vittoria appena due in tutto il campionato e gli undici punti dal terzo ultimo posto appaiono un divario incolmabile tutte le partite come da disposizione della Federcalcio inizieranno alle 14.35 un posticipo di 5 minuti come segnale di solidarietà verso il popolo ucraino Re a tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social a me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi a Grazie a tutti.